Di Luca lunedì secondo L Ufficio Studi CGA che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia riferendosi alla dichiarazione dei redditi. Nel comune di Pisani 985 contribuenti hanno dichiarato un reddito medio di 54.708 euro il Teatro del Silenzio e una collina strisce a soli un paio chilometri di distanza. Attende il concerto che ogni anno metà estate sciama le strade sterrate sul set jet internazionale. In quell'occasione è possibile vedere la passerella e abiti lunghi per combatti orgogliosi dell'ambiente del paese. La fotografia laiatico è tutta qui il tipico villaggio di cartoline toscani, case pietra e tutto il resto, sotto una patina affascinante. Ecco tutto porta il marchio suo abitante più famoso, dall'ingresso del paese in ogni paese o insegna si riferisce al più noto Aglari italiano, l'unico dei bel paesi, oltre al presidente della Repubblica Mattarella, invitato all'incoronazione Re Carlo III, dove si esibiva sulle note di Non camminerai mai da solo. Di fronte al municipio, una statua bronzo tenore lo ha donato al comune dopo averla ricevuto dall'autore, Gina Lollobrigida.Bocelli Cantine, Bocelli Cosmese Shop 1 di forniture agricole, oltre l'inevitabile Bibi, in breve, l'immobile immobile e il motore dell'economia del villaggio è uno e un solo, Lalfa L Omega comune più ricco Italia. Uno degli adagues più famosi di Wall Street recitano quando la marea sale tutte le barche salgono. Rimanendo su tema cantando, fino a quando la barca di Bocelli non va, all'aiatico la lasciano andare.